Quindi 15-0 mi prendo lo spray dei totem, va bene Oggi andiamo a fare 15-0 E non sono nemmeno da solo Perché ci sono due personaggi con cui mi avete chiesto di giocare sotto ogni video che faccio di Brawl Stars E non sto esagerando ragazzi Sono con Maru e con Mauri Io l'ho già detto alla chat Io non accetto meno di un 15-0 nella championship Ma è chiaro È chiaro Ci mancherebbe Ok Questi dovrebbero essere abbastanza abbordabili Visto che sono a diamante Ok Tra l'altro è il mio primo game del giorno Non so voi se fate riscaldamento o qualcosa Ah no, il primo game è per me Ah ok, perfetto Pensavo i pro player facessero tipo due ore di riscaldamento Prima di iniziare a giocare Ma va Ok, questi sono abbastanza easy Ce le stiamo mangiando Provare l'overdrive Dov'è il tuo spray? No, lo Il mio? Il tuo spray per terra Questo qua Sai che non ho mai usato uno spray se non questa corona che ho dal tipo il 2000 e qualcosa Ah, male, male Eh, toccherà prendere lo spray 15-0 prendi lo spray Questo spin A caso Perché sta spinando quel gron? Che fa? È gazzico No, ma che bello l'albero quando usi le ulti di quel lion Cos'era? Halloween 2022? Sì, no No, questa qua è questa di quest'anno Ah, eh, me la son perso Per poco Vabbè, merita Bellissimo Adesso è uscita quella di BB Che probabilmente mi prenderò A 300 GG Io mi immagino questi qui poverini ad oro e diamante che magari hanno iniziato a giocare un mese fa che si trovano pre a master contro Vabbè, è parte della crescita, dai È successo a tutti Ok Rimbalzino di Bell E qua cos'è che succede se fai le 15 vittorie ho visto che puoi accedere tipo alla championship Non so bene come funziona Sì, alle qualifiche Ci pare un tasto in lobby infatti Con scritto esports Che puoi vedere bracket Puoi vedere... Ah, e quindi Chi fa le 15 win può partecipare agli esports o può partecipare a dei tornei che poi... Sì, puoi fare la qualifica mensile che tra la prossima settimana La puoi provare a fare No, ovviamente è difficile e ci vuole un po' di tempo Certo Però vedrai il tasto che è la cosa più figa Sblocchi una volta e ci vai per tutto l'anno Bello Sì, sono qua di figo comunque per il mondiale di novembre sempre Vabbè, siamo tre Ora dovrebbe cambiare anche la mappa Anche gli altri hanno Melody Però mi sa che... La nostra migliore Leggermente, dai Non troppo Oh GG Oh, le partite più veloci di sempre, mannaggia Sono troppo forti Ma questi qua sono... Sono leggenda e master Quindi è gente che più... Un pochino ne sa, dai Easy Ho anche la super La chiamate ulti o super voi? Una domanda che faccio a tutti Beh, io super GG Siamo a 5 Oh, siamo contro Ira, dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare veramente attenti Ok Ira è andato Il problema era... Era lui Oh, è un pochino Oh, è un pochino Easy GG Victory Ah mamma mia Byron Una ultima Ok 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 Ah per me la tu almeno nei dieci tu Non che sia un problema riprenderle in casa E qui Byron Preso Stiamo contro un GX GX Luigi Allora qui Eh noi abbiamo una faida GX LL Quei totem va bene Però con gli LL e i GX c'è una faida Sto cercando di convertire le persone a mettersi LL nel nome Non so cosa riuscirò a fare però ci ho provato Ma io ne vedo anche tanti col tag totem Poi magari gente che non ha scaricato il gioco da un mese Ma io ho scoperto una cosa assurda Se hai un altro Angelo in squadra E siete in due Angelo La sua ulti ricarica Cioè ti avvelena anche La tua I tuoi colpi Quindi praticamente puoi mettere giù due ulti Ed è leggermente OP Eh le lobby basse si trova solo Angelo Praticamente quindi Angelo e adesso Melody Chi è che già tutte quelle jamme lì? Chi aveva? Ok 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 E là Ma sbaglio o hanno buffato il gadget di Bama? Non l'ho mai visto andare così lontano Forse un po' di tempo fa Sicuramente non da poco Se sarà abbassato Eh sono rimasto nel 2020 con la testa Anche Dynamite c'ha un range assurdo Ora non capisco niente Manca un 6? Ah ce la facciamo Let's go Si incontra un italiano Stiamo pronti a cucinarlo Vi facciamo vedere chi è il vero chef qua Vai metti il tuo pin Del cucinare Ho visto qualcuno spinnare lì avanti Eh si E' proprio lui Gigi Le spin Questo è uno spinnino tattico eh Ok Ok Questa volta lì non l'ho capita sai Il vero pensava di avere fang E non lo so voleva scappare Ma posso anche Probabilmente ricaricare l'overdrive se riesco Si Ehi Ester Jesse Dai Gigi No mia L'hai distrutta quella Ice lì Da solo lì tranquillo Zitto zitto eh L'hai capito bro Vediamo E' preso il trenino No Stavo di essere passato a miglior vita prima Ma se no GG Ok Easy E poi le cambio il gadget Tozzo Ok GG Perfetto Che sono le ultime tre modalità No che io Ecco che io A me non piace No Oh tutti mi dicono E' la miglior modalità E' divertente A me proprio non piace Il fatto che Boh Non puoi respawnare Non mi convince Anche questi siamo pronti a mangiarceli C'è l'Edgar nel loro Che spuso Ok Stava caricando la ultima Edgar è uno di quei brawler Che spero le vino dal gioco Perché E' incredibile Vai che te lo mangi Perfetto Ok Bravissimo E' lì nel cespuglio Edgar E' in alto a destra Con l'hyperciaginale E' la super Ho capito E' mid adesso Al centro E' ancora lì nel cespuglio Eccola No eccolo Si può fare il panico Edgar E' pericoloso Ecco GG Quante sconfitte abbiamo Cos'è una sconfitta bro Ok E' bello Niente Non faccio neanche tempo avanzare Che me li avete già ammazzati tutti Voi che siete incredibili Voi due Vai questa qua Ci dobbiamo provare a lasciare A zero kill Ok Ah vi dovete lasciare A zero kill O No Lo sentirei come Allora Allora non gioco Tanto riuscite comunque a vincere Che siete due draghi Voi mi dovete insegnare Qualche tecnica Io sto cercando Di migliorare a giocare Si Ok GG Niente Non mi avete fatto fare Zero kill per a me Guarda che siete Siete incredibili Voi due No allora Adesso però Mi dovete dire Oggettivamente Come me la cavo Brawl Stars Perché io Ho ripreso da poco All'epoca Ero decente Come me la cavo Vedo dire che tu mi conoscevi Dai tempi Sì Veramente Eh sì io ti guardavo Guardavo gli e-sports Pensa te Mi ricordo Ero stato lì per Grindare Barglar Cat Jesse E vi guardavo Assurdo Adesso sto giocando Guardi quei mondiali Bravo Perché mi chiudi Ma guarda che Guardalo Guarda Gioca per sabotare me Guarda che sei Sei incredibile Sarò il rilascio Lì Guarda Guardalo Guardalo Godo 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 Vieni qua Vai Dico Guarda Ciao No dai Scorretto Attenzione Uno Lasciatela Vincere a quel Ground Ti prego Dagli la soddisfazione Di vincere Stai trollando Ok GG Complimenti Puoi partecipare Al prossimo turno Del torneo di Brawl Stars Controlla i messaggi Per maggiori informazioni Quindi lo prendiamo Eh tocca prendere il pin Qua ragazzi Tocca prendere il pin Allora aspetta Dove lo trovo? Nello catalogo Catalogo E pin Quanta roba esports hai? Avrai 0 su 44 Allora Dov'è la sezione esports? Perché No io non l'apro La sezione esports No non ho mai preso nulla Sono Da quando ho sottolato Ho preso solo un paio di skin Ragazzi 15-0 Io ve l'avevo detto Che l'avremmo fatto Era scontato Grande grande Ah ma c'è anche la cosa profilo Sì anche lo si Questa è legale Bellissima 15-0 abbiamo fatto Io ve l'avevo detto Era garantito Ci siamo presi anche il coso dei totem Aspetta che lo equipaggiamo Dove cacchio si equipaggia Il coso dei totem Vogliamo una emotel clown Magari Visto che non mi piace usarla E me l'ero messa solo per un motivo Ah eccolo qua Easy Ma l'altro giorno mi ha fatto un raid Icaos Come fa a conoscermi che è spagnolo Sì perché eravamo in bootcamp Sì eravamo insieme Dal vivo Ah gli avete detto Fai il raid a lollo Ma ti ho redato Veramente Mi ha fatto il raid Io ho detto Ma perché Icaos Che è spagnolo Mi ha fatto il raid Vabbè Ma che è spagnolo Ma che è spagnolo